Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. L'intensa ondata di caldo che ha interessato la nostra penisola e in modo particolare le regioni meridionali è giunta finalmente al capolinea. In questo weekend la saccatura nord-atlantica, che ha creato molti disagio al centro-nord a causa dei violenti temporali, si sposterà verso il sud Italia, apportando un deciso callo termico e temporali sparsi nella giornata di domenica. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per sabato 1 luglio. Al mattino a cieli generalmente sereni, qualche nube di passaggio nel corso della mattinata sul Gargano e interne pugliesi, ma senza fenomeni. Nel pomeriggio qualche nube sui lievi lucani e murgiani. In serata, all'avvicinarsi della perturbazione da nord apporterà le prime nubi più consistenti sul Gargano, ma senza fenomeni. Temperature in calo ovunque di 4-5 gradi, più marcato sulla Puglia centro-settentrionale, ancora massime sui 30-31 gradi sulle zone interne Leccesi e Materano. Venti in rinforzo dai quadranti settentrionali, mari poco mosso al mattino, mosso nel pomeriggio l'Adriatico, poco mosso lo Ionio. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Gabriele Calò per aver immortalato questa atmosfera magica e ricca di caldi colori al tramonto dalle rive di San Fuca, in provincia di Lecce. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero whatsapp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.